ben ritrovati ragazzi faccio subito un salvataggio così ne ho uno all'inizio di questo livello ok spero che non siano respawnati tutti quanti lo spero davvero con tutto il cuore perché sennò cioè sarebbe buono perché almeno si rifà il giro vediamo si sono respawnati tutti oh raga io ne approfitto perché così almeno mi riprendo tutti i medikit va bene nell'hotel non sto a tornare perché tanto non voglio ricensurare poi per prendere soltanto qualche colpetto farò soltanto un giro generale poi direi che ci rivediamo direttamente al al modo ok siamo di nuovo in zona quindi mi sa che dobbiamo andare lì dove c'era il tombino che strana cosa comunque che ricarica praticamente tutti i medikit tutte le cose ne ho accumulati veramente tanti sto pieno praticamente guarda un po' mamma mia so pienissimo però meglio così aspettiamo solo quel tizio posso andare già da sopra faccio un salvataggio va sta arrivando un owess ecco qua andiamo eh infatti doveva triggerarmi lui la scena ci vediamo più tardi non ho nessuna speranza di passare attraverso qualcosa meglio così cercherò di trovare un altro modo per entrare nel teatro e ti incontrerò lì dentro va bene ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti sugli horror che sto pubblicando in questo periodo sul canale ci rivediamo nel prossimo video